Scegliere il campo della squadra degli attacchi, ed insieme il capitano della squadra, Mare Cattarini! Ciao tutti! Ciao a tutti! Parlare con un amico, e questo te lo dico comunque la prima volta che mi succede, sembra veramente di parlare con un amico, e penso che sia anche il rapporto che tu abbia con il tuo pubblico. Ecco, quindi veramente il successo non ti ha cambiato. Ma credo che alcune cose cambino necessariamente, cioè fortunatamente c'è un aspetto di cambiamento positivo, cioè il fatto che comunque fai un lavoro che per me, che desideravo farlo da sempre, è il più bello del mondo. Qualcosa è cambiato necessariamente, però chiaramente a livello caratteriale, o di come io cerco di rapportarmi alla vita, non penso sia cambiato tanto, nel senso che cerco di mantenere sempre un approccio il più possibile naturale alle cose che faccio e rapportico con le persone. L'ultimo album è sempre il migliore, no? Per un artista. Ecco, anche per te è così. Più o meno sì, perché è quello più vicino cronologicamente, quindi è quello che ti rappresenta di più, per forza di cosa, perché le canzoni che hai scritte le hai scritte più di recente, quindi le ha scritte un te stesso più vicino a quello attuale, no?